Le due ruti, una televisione monolocale, via Teulada, dove è nata la televisione, guarda, e da qui giunge Guglielmo il Dentone, Alberto Sordi, in un film degli anni Sessanta, da qui sono passate le gemelle Kesserling, è passato, è passata tutta la storia della televisione, che adesso sto mostrando da un balcone, Gorni Cramero, chi altri ancora? Con le gemelle Kesserling l'ho detto, mi piace quella fontana. La preistoria della televisione, che era già in sé storia, e lì sul muro c'hanno scritto contro il revisionismo, lì c'è Montemario, c'è l'Irtonio, quindi i mediterranei, le bandiere lettura, te le due ruti, solo noi, ah guarda lì quelle case, c'è pure il terrazzo, la Roma degli anni Sessanta, te le due ruti.